Come piano parliamo di cronaca, mentre si aggrava il quadro giudiziario riguardante la strage di Brandizzo con la procura che ipotizza di contestare il reatto di omicidio e disastro condolo eventuale riscontrando gravi violazioni delle procedure di sicurezza, il Piemonte ha dichiarato lo stato di lutto in occasione dei funerali dei cinque operai morti. Con questa decisione si legge una nota, desideriamo esprimere il cordoglio e la vicinanza del Piemonte alle famiglie delle vittime e alle loro comunità. Negli edifici pubblici saranno esposte le bandiere a mezz'aste, la cittadinanza sarà invitata ad osservare un minuto di silenzio. Intanto il tragico incidente viene duramente stigmatizzato da CGL e Cisle Will che per lunedì prossimo a Vercelli hanno proclamato una mobilitazione con un corteo silenzioso che partirà alle ore 10 dal chiostro di Santa Andrea per raggiungere la prefettura dove sosteranno per sensibilizzare le istituzioni affinché possa placarsi il fenomeno delle stragi sui luoghi di lavoro.